io sto salutando ti sto sopra? è proprio che non vengono stiamo dietro bene con la maglia stiamo spingendo sto dispendendo Oh, c'è una cosa al cranio, eh? Sai queste cose del... della guerra? Ma filmi? Certo. Ma non capisci che c'è una cosa nera e che c'è una cosa grigia? Come? C'è una cosa nera? No. C'è rosso, c'è una luce che fa così. Stai attendendo? Wow! Wow! C'è il primo piano! C'è il piano!